Oggi ricorre la giornata mondiale contro il lavoro minorile. Rinnoviamo a tutti uniti lo sforzo per rimuovere le causa di questa schiavitù moderna che priva milioni di bambini di alcuni diritti fondamentali e li esponi a grave pericoli. Oggi ci sono nel mondo tanti bambini schiavi. Oltre all'appello per combattere questa piaga il Papa Langerus ha auspicato ancora un affruttuoso impegno nella lotta contro il morbo di Hansen conosciuto come l'Ebra a cui nei giorni scorsi è stato dedicato un convegno internazionale. Infine ha ringraziato i medici e gli operatori sanitari che nei punti della salute allestiti presso le quattro basiliche papali stanno offrendo visite specialistiche a centinaia di persone che vivono ai margini della città di Roma. Nelle sue parole anche il ricordo di due nuovi beati, esempi di amore e dedizione verso gli altri, il sacerdote Giacomo Abondo e suor Carolina Santocanale fondatrice delle suore cappuccine dell'Immacolata di Lourdes.